Il mio orgoglio è vedere, adesso il mio incarico è differente, sono tutti in mezzo, però fino a sei mesi fa il mio orgoglio era vedere la moto che io provavo e che giudicavo buoni, ma i piloti magari tutti i piloti riuscivano ad andare sul podio, sul grino, anche più alto del podio con questa moto, come era motivo d'orgoglio. Quindi si è sentito più orgoglioso quando Chesi ha vinto quella moto che mi è sviluppata. Quando Chesi ha vinto il Mondiale, ma soprattutto la prima gara, la prima gara in Qatar quando Chesi ha stravinto e ammigliava tutti, lì mi sono sentito orgoglioso e ho fatto un bel lavoro. Mi stavo vergognando oggi perché non riuscivo a trovare una moto per venire qua al VDV, mi stavo per venire in macchina, mi stavo vergognando, però ci ho messo una pezza perché a Bologna l'ho trovata, ho fatto un parma a Bologna in macchina, a Bologna ho preso una moto, sono tutti i piloti, mezza vergogna. Mezza vergogna, grazie, prego. Grazie a tutti.